ciao dj aki e mai poco sono a Firenze Italia vi mando un abbraccio un saluto caldo pieno di musica e di vibrazioni un saluto soprattutto caloroso a tutti gli ascoltatori della radio e i miei friends in Giappone spero di vederli presto un abbraccio forte 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 ciao is there anything I can do there isn't anything I will do I want to give you the best of me in your life everything I see and everything I touch brings me straight to you so now I live in my house and I'm walking down the street to find a telephone to call you I drive to be faster than wind check me now by your side is there anything I can do there isn't anything I will do is there anything I can do there isn't anything I will do so so Grazie a tutti. Grazie a tutti.